Il campionato scorre tra le mille emozioni di un Avellino che si trova con il cuore diviso a metà. Premettendo che i lupi devono pensare a loro stessi e non fare calcoli o voli pindarici, in città non si parla d'altro che dello scontro diretto di sabato pomeriggio tra Ternana e Bari. Sembra un match cruciale, potrebbe anche esserlo ammesso e non concesso, che in maniera i compagni espugnino monopoli, il che non sarà affatto semplice. Sperare in un pareggio una vittoria delle fere o dei pugliesi, pensieri contrastanti per i tifosi del lupo che però devono fare i conti con gli altri scontri difficili che ci saranno da qui al termine del torneo. Tradotto, tutto è ancora apertissimo. Senza volersi addentrare in tabelle o pronostici, fatti poi per essere smentiti, alla 31esima giornata la Ternana dovrà fare visita ad un teramo molto solido tra le muramiche che ha già fermato l'Avellino e battuto il Bari. Alla 32esima, proprio i pugliesi dovranno sfidare il Catanzaro al Celavolo, mentre l'Avellino nella stessa giornata andrà a Catania per due scontri diretti da brividi. Alla 34esima, poi, i lupi dovranno essere ospiti della capolista Ternana, mentre la domenica successiva il calendario ha voluto divertirsi piazzando il Bari, che affronterà i biancoverdi al partegno Lombardi. Nel turno successivo, poi, la formazione di carriera al San Nicola ospiterà il Palermo, che non è da considerarsi una big per il cammino svolto finora, ma sicuramente una mina vagante capace di infassidire un po' tutti. Insomma, non serve fare calcoli, i punti in palio sono tanti e gli ostacoli per tutte le squadre pure.